Ottenuta la gratificante stretta di mano con la Federazione Italiana Pallacanestro e incassato il finanziamento da 4 milioni di euro di fondi PNRR, ora la cittadella del basket che sorgerà sull'impianto Facchini di Via Togliatti ampliando la già esistente piscina e struttura dedicata al Pentatron fissa il cronoprogramma e si interroga su come affrontare una problematica di parcheggi già esistente sulla zona. Temi affrontati nel Consiglio Comunale di ieri che ha approvato con 20 voti favorevoli e 7 astenuti il progetto di fattibilità tecnica economica con modifica urbanistica per una nuova costruzione che amplierà anche in altezza la struttura già esistente. Con i 4 milioni andremo a realizzare che cosa? Andremo a portare avanti il completamento del piano primo dell'attuale piscina, quindi dell'impianto natatorio di Via Togliatti con una serie di interventi che prevedono la realizzazione di spazi ambulantoriali in particolare per fisioterapici ma in realtà quindi di spazi medici per gli atleti, la realizzazione di una piccola palestra quindi di spazi anche riservati agli atleti. Andremo poi a realizzare una nuova palestra insieme a un blocco servizi, una palestra che dovrà essere rispondente rispetto ai canoni richiesti dal CONI, è un blocco servizi che appunto consentirà agli atleti da una parte di potersi anche lì allenare perché è prevista una piccola sala pesi, sono previsti gli spogliatoi per gli atleti, per gli arbitri, servizi igienici e anche, ho dimenticato nella piscina, uno spazio dedicato agli uffici e alla sede di fatto della federazione italiana pallacanestro. Pozzi ha chiarito anche un cronoprogramma dettato dai tempi fissati dal PNRR, si dovrà dare inizio ai lavori entro giugno 2023 con consegna dell'opera entro marzo 2026. Al di là della struttura il comune si troverà impegnato ad implementare un'area di sosta già piuttosto congestionata. Questa nuova cittadella dello sport diventa anche un'opportunità per l'amministrazione di andare a risolvere un problema che già oggi c'è e che probabilmente con una struttura che funzionerà, con i nuovi flussi che si porteranno, potrebbe, andrebbe sicuramente ad aggravarsi. Il comune sta pensando in tal senso a un nuovo parcheggio da 120 posti fra piscina e scuola, ad un collegamento tramite passaggio pedonale al parcheggio di via Scarlatti e, nel caso, ad un'area di sosta su via Paganini.